mamma mia ovviamente non ci sta sentendo tre ore porco di una come cazzo si fa baria eccolo un attimo solo che vado su non solo dada ed ecco di qua ragazzone buonasera max emiliano come stai bovone posto io bene che si dice che esco fuori da una settimana di convalescenza post island sono ancora un po di catarro qui e la quindi sono la gulina del merda è tutto però sei stato è l'islanda lo fa l'islanda lo fa però penso che te ne sei ultra bene no merda il problema tipo è una vacanza da fare buonasera buonasera lo vedo confuso lo vedo già confuso si si diego diego giuglioli secondo me sta facendo quelle cose degli audi max nella web come state ragazzo il posto bene bene voi bene sono un po sono un po intristito io ho due amici della nuova zealanda che tipo sono venuti qua in vacanza in italia arrivati oggi sono trovati da merda però tipo lei un principio di isolazione tipo fuori aspettate mezz'ora perché non arrivava non funzionava il pin a quanto pare vai internet manca solita figura da merda insomma la nostra nazione si risolverà comunque speriamo mamma mia comunque posso dire che è vero gli alberghi non sono più quelli di una volta comunque quando c'è stata tutta la nuova genera gentrificazione di roma è un casino no e ma ma senti ma tu ti sei ammalato in islanda ti sei ammalato quando sei arrivato qua appena arrivato appena tornato 38 e mezzo di febbre proprio vita di merda dire c'è proprio quanti giorni in realtà adesso sono ancora un po in convalescenza c'ho ancora il raspeghino in gola ancora fino a due giorni fa la febbre continuava adesso il 36 mi ha distrutto e completamente distrutto cioè non era nemmeno pesa a livello di proprio di effetti però ci ha messo tantissimo adorare e do la colpa non è colite no ho testato ho fatto il test non era cove dalla fine anche se sembrava un'influenza più che più che abbo però hai avuto degli sbalzi termici da 18 gradi a 41 sono state le 15 ore di viaggio di ritorno che mi hanno inculato un aereo con un aereo che aveva l'aria condizionata rotta che mi ha sparato qua e infatti è stata sinusita perché tipo avevo tipo male agli occhi e il naso quanti credici erano la torno allora c'è stato un giorno dove ha nevicato cioè c'è un giorno che eravamo in giro a vedere le cascate ci ha nevicato in faccia ragazzi gli altri giorni era vera o era neve fina ciao 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 nevischio però tipo una giornata tipo quanti gradi erano normalmente era sui dai 10 ai 20 quindi c'era tipo primavera di fatto tranne il vento il vento inculata lì e un giorno però a caso ha nevicato cioè proprio così ha nevicato toccano in islanda in islanda in islanda raga io ci vado è un posto bellissimo già nel senso è proprio il posto dove dici vado lì non voglio vedere più nessuno me ne sto per i cazzi miei in mezzo a questi paesaggi allucinanti peraltro c'è delle cose che sembravano gli sfondi di windows da quanto i colori erano proprio le colline verdi e il cielo azzurrissimo poi mezz'ora più in là era tipo marziano paesaggio marziano con i crateri con la con tipo il fango che esce fuori guys assurdo dove hanno girato lo sbarco sulla luna no sì 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 è proprio quella bandiera rischiato di morire no era abbastanza era abbastanza safe era molto safe cioè oddio un paio di volte cioè si fidavano dei turisti perché voglio dire c'erano c'era la cordice c'era la crepa a un certo punto che dove c'è una faglia tra europa tipo zona euro asiatica e america c'è proprio la faglia e tu saltavi da un continente all'altro potevi fare tipo ti mettevi con le gambe aperte e dicevi qua sono in america e qua sono tipo in europa però la gente ci si metteva la potevi casca dentro volendo quindi ma senti ma è meglio fare questa cosa o fare finta di sostenere la torre devisa più o meno secondo me equivalente come livello di pateticità più o meno era lo stesso perché era tutto pieno di stronzi che si mettono le gambe aperte così anche ci sono quelli sì 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 esatto a me di sensazione penso che sia molto più goduriosa questa qua di mettersi su una faglia su due contenuti vabbè se sei super fissato si aspetta la torre di pisa aveva pure la vista dovrebbe stesso una faglia e cioè storta la faglia tra livorno e pisa c'è una faglia c'è una faglia tra quanto si odiano c'è una faglia enorme un po' si è spacciata la terra anche la terra livornese si sta allontanando da pisa e quindi c'è la torre che sta andando verso un lato no e io l'altro giorno sono andato a prendere la mamma di federica che è tornata dall'inghilterra e mi ha raccontato tutto una è successo un macello praticamente tipo l'aereo doveva partire alle 6 alla fine è partito alle all'una di notte da da londra e quando sono saliti sull'aereo il capitano ha annunciato questo aereo non atterrerà perché doveva andare a napoli in realtà non atterrerà più a napoli ma atterrerà a fiumicino così così hanno cambiato l'aeroporto e loro dovevano andare a fiumicino e tutti era tutto pagato dovevano prendere un pullman che li portava a termini alle 4 di notte col cicalone che gira e li aspettare un treno per napoli ma minchia oppure prendere un pullman diretto per napoli dall'aeroporto ma un pullman dall'aeroporto è impossibile per napoli no no era fatto era stato creato apposta ah ok un sostitutivo diciamo perché da fiumicino c'è il treno che può portare a napoli ma la navetta mi sembrava proprio strana cosa cazzo devo leggere scusate mi ha trovato a perdere dell'acqua ah jade si no scusate non volevo rompervi il cazzo no no avete cambiato avete cambiato categoria il nome del del format o c'è scritto ancora goals io vi mando regas quindi non è un problema mio proprio l'hai fatto gol sono golson c'è il martedì no scusa il mercoledì c'è dopo pomeriggio dopo pomeriggio si si dalle programma a ok pensavo pomeriggio fosse nuovo format tipo il mercoledì fai questo nuovo pomeriggio e poi solo cose come diritti esatto pisolini guardare la tv ma a proposito come è andata a ieri quale trovo un pista casato un botto max infatti ho messo il gol 12 ore lettura fa la mazzata proprio matto ma la gente dice ma non ce la fare mai a legge per 12 ore ottavo capitolo sarà scritto nami tipo nami si aggiunge belle al capitolo su una mica ok non mi ricorda degli uomini pesce la prima saga sì è proprio l'inizio praticamente subito dopo zoro no sì sì subito dopo zoro e non ho preso benissimo voglio vedere voglio vedere un attimino quanto leggendo con gli screen a schermo sì 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 col pdf a colori che hai ovviamente opportunamente comprato e poi fai vedere quello che tu hai ovviamente si dicono lì no ma si legge si può leggere anche gratuitamente in realtà è vera sull'app sull'app ufficiale di diciamo ok si puoi leggerlo solo una volta ma poi leggerlo a come gli avvo come i film che ti compri da apple tv si aspetta l'app si chiama non mi ricordo più è bello cancellata però sì è una cosa qua no mi dovete spiegare come si fa uccide scusate manga plus dissuascia è la no no adesso voglio sapere come si fa uccide che il canale leggendo 12 ore one piece è un evento soltanto allora scusa quando fanno sanremo dalla rai uccidono la rai perché c'è stata sanremo no no però uccidono un sacco di canali che streamano sanremo quello è un altro discorso sì sì no no infatti non metto in dubbio comunque il discorso dell'aereo della mamma di fedica non era finito perché in realtà quando il capitano ha annunciato che sarebbero stati dirottati a fiumicino si è alzato questo tizio enorme 200 napoletani che ha cominciato ad urlare contro il capitano di ucciderlo ammutinamento tipo sulla sfereo aritalia non era vera la merico british pomeriggio no wiz wizard e praticamente hanno fatto ritardo anche perché poi quando sono riterrati a fiumicino hanno aspettato la polizia venisse a portarsi via sto tizio che ha minacciato il capitano ebbe porca troia per forza il più forte non è che il capitano decide che deve cambiare evidentemente c'è stato un problema a napoli hanno dovuto no lo so però diciamo che neanche anche tu hai la scelta di non urlare ammazziamo il capitano e quindi penso che la poi ma forse stava leggendo one piece anche lui non credo sei medesimato nel fumento nel fumento secondo voi c'è quando la gente ha queste reazioni spropositate proprio ammazziamo angustro ce lo fanno lo fanno c'è nel senso lo provano veramente o è per far vedere agli altri che sono hanno la giustizia dentro di loro cioè ammesso c'è proprio incazzate c'è ammesso c'è i derby sa che è che secondo me dopo sei ore di fermo che dovevi partire alle quattro parti a luna di notte stai fermo dai si è rabbia rabbia di odio che ti è creato perché ha aspettato quattro ore in più mi cambi pure l'aeroporto e me li costringe a prendere un pullman di merda per una napoli tre ore sul pullman e quindi vuol dire che allunghi sei altre sei incazzato poi vabbè di base sicuramente c'è qualche problema perché sembra lasciate morte il capitano qualche problema non hai ragione non pensi che ci sono le conseguenze soprattutto esatto non hai ragione però siamo ancora in volo così prevediamo non è moscardelli e bove ragazzi lo conosci moscardelli si non è un giocatore di pallone era sì sì era del chievo era particolare perché c'era l'unico giocatore con la barba enorme mi ricordo pure quando stava a roma in porta che era l'unico rasato con i basetti giganti un portiere della roma no no il portiere roma del chievo ah oddio non me lo ricordo eh io il pallone ma sai qual è la cosa bella non è un pallone però non lo seguo cioè la cosa figa è quella però il pallone non lo conosco ma io essendo figlio d'arte tra virgolette perché papà era ultratiposo del calcio mi sia mi sia mi è stata appioppata la calcità e quindi io diriffo dirà fa queste cose che devo sapere perché è un paese di diecimila anime o parli di pallone o parli di figa che ricordo come twitch esatto esatto è del motivo per cui poi me ne sono andato e parlo di wrestling di giochi da tavola di wrestling ho visto che avete condiviso delle robe che è successo eccoci esatto scusate ci sono incati la cintura esatto è successo che quei figli di puttana di gioco da tavola ita hanno i giorni contati eccoci vai no no allora cosa è successo io ho creato questo questo titolo per fare content sul gioco da tavolo ok questo è un titolo che vale per vitti vincere vince questo campionato di giochi da tavolo ok siamo stati sabato al matrimonio evento organizzato dal dal maestro pertici qui alla mia destra poi rispetto alle vostre camere non lo so e mi sopportato il titolo appresso perché sapevo che c'era amico c'era giochi da tavolo ita c'era il quattro più e avremmo potuto creare qualche momento fatto sta che uno di al quattro più iati che aveva già vinto la cintura in una sua maratona mi ha risfilato per il titolo e io onestamente ho perso e quindi l'ha tolto se lui mi ha tolto la cintura però il coglione l'ha lasciata su una sedia sdraio e non abbiamo non abbiamo trovato più questa cintura era era data smarrita cioè era sparita nel nulla ok quindi ma io che cazzo di fine ha fatto la cintura che che successe che ne è successe quello che abbiamo pensato ovviamente se si era sorpresi si era sorpresi ma in che paese eravate a fuciccio a fuciccio in toscana ah ok no allora sennò era giusto no 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 chiamo le mani avanti evitiamo insomma di perpetrare gli stereotipi poi rubare in casa dei ladri diciamo va beh può succedere non se lo aspetta però diciamo che il fatto sta che allora do sta sta cintura no va buo così colà io io un messaggio agli achi quando mi ha detto no ma io sono proprio stronzo a me se la sono rubata sotto al naso ma che coglione che sono fatto guarda secondo me è uscita un plot twist sono stati quelli dei giochi da tavolo vita c'è un negozio no 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 sono un gruppo di ragazzi che hanno scelto il nome più ovvio che si può cercare su google quando scrivi giochi da tavolo è vero è un master aspetta giochi da tavolo i giochi è quel nome da forum di forum free di 15 anni fa praticamente pure 23 possiamo dire base ma non escono comunque no no però su tiktok è su Instagram ah ok ok infatti ci hanno un numero decente effettivamente poi hanno fatto la storia dove sono usciti loro col titolo me l'hanno fatto pure reaktare vado hanno fatto il cup di teatro più bello mai esistito perché poi Nico da buon padrone di casa ha detto vado siete stati al matrimonio evento è scomparsa la cintura nel caso siete stati voi a prenderla per metterla da parte cazzi e non siete sul gruppo fate vedere no quindi si è creato un attimo di cosa però il sospetto del del content c'è stato e oltretutto ha fatto un bellissimo ha detto mentre tutti voi eravate a divertirvi io ero a sgobbare perché loro si occupavano della musica si occupavano dell'intrattenimento musicale da lì al matrimonio e ovviamente noi smontavamo tutto mentre vi divertivate con i drinchettini così io a sgobbare poi ho visto in custodita la cintura l'ho presa e adesso dovete venire a prenderla qua e hanno fatto una roba al wrestling vecchia scuola proprio hanno fatto un promo incredibile ma quindi fammi capire tu sfidi le persone giochi da tavolo e come cose ci sono in palio la cintura come la cintura esatto esatto chi la vince se la prende cioè io siccome l'ho persa contro gli aghi al matrimonio era sua cioè come diceva scotto legalmente l'ho creata io però il titolo va chi la vince sì 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 è una cosa figa una cosa carina eh sì eh sì perché poi il punto il problema qual è tanto il gioco da tavolo è cringe e il wrestling che è cringe il gioco da tavolo è cringe? dai no il wrestling non è cringe se lo sai fa dai cioè certi erano veramente belli non ho mai gringiato il wrestling ma non sono cringe in senso assoluto però sono quelle nicchie che veramente si parla così tanto poco di questa cosa che non escono mai al mainstream allora quello che ho pensato io è troviamo un sistema carino per usare una cosa un bel messo sì 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 come lo scontro diretto come si crea nel wrestling con i promo come si fanno nei dissing nei content eccetera e uniamola una cosa che voce non ha perché appunto metti leviamo caso nico che è un content creator che ha numeri giganti per il mondo del gioco in scatola e altri creator che hanno così di gioco da tavolo e meno questo contenitore che abbiamo creato di gioco da tavolo si parla veramente in quattro casi allora così quanti sono secondo te saremo 40.000 in italia 40.000 50.000 è distante perché quello lo vedi pure in base ai numeri di fiere del settore però quando quando vengono ma io parlo di ovviamente wrestling a direttamente il gioco di wrestling no saranno 100.000 in italia ma io dici i propri fan che seguirebbero se vengono magari a in italia un po dei lottatori americani benissero sì e poi ci sono anche le che italiane ci sono anche le federazioni piccole italiane 100.000 sono tanti ma perché io a parte vabbè qualcuno che ho sentito e vi metta slime in chat che è fissato e pochissimi e bove non sento mai pare un amico mio però 100.000 tanto sì però 100.000 rispetto ai numeri che mo ci vuole come i numeri per twitch hanno una proporzione per cui mille sono tanti 10.000 sono tantissimi 100.000 su un programma che tecnicamente dovrebbe essere televisivo solo zero sono zero in america chi segue la su televisione saranno adesso tra il milione e tre milioni ok sulla tv pubblica e comprarlo in italia quando andava in tv tipo sulla media 7 ce n'è stava del gente che lo seguiva io mi ricordo li guardavo tranquillamente dei rock ma perché i colossi giganti facevano robe strane poi parlavano ridicavano cioè non aveva senso quella roba lì no ma in realtà in realtà tutto è caduto solo per colpa dell'effetto benoit cioè una storia terribile se lui già ne abbiamo parlato mi sa si 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 uccise moglie e figlio e poi se separato solo no 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 se impiccato ha fatto le mosse di strangolamento al moglie e figlio che era pure disabile lui poi si è impiccato quindi diciamo che mamma mia quella storia la ha fatto in modo che in italia e nel mondo il wrestling ridimensionasse notevolmente nonostante sia diventato un programma pg e non vm 14 quindi comunque quella roba la ha fatto tanto ha fatto veramente la fine non era non aveva dovuto fuori che era per la questione dei danni al cervello che lui si era beccato e come tipo i giocatori di football americano che era venuta fuori il fatto che a pure di prendere botte in testa per 10 anni 20 anni 30 anni si ritrovavano con il cervello di uno novantenne con l'alzheimer ultimo stadio e sostanzialmente ammattivano quello comunque in italia non sto sentendo canali che parlano di motori ma in realtà su twitch ci sono tanti canali che poi trattano formula 1 questo l'ho visto visti ma un botto cioè ce n'erano certi certi ragazzini che facevano la telecronaca erano pure bravi in realtà parlavano come se fossero quelli della tv fenomeni proprio sti ragazzini un po' un revival della formula 1 nelle zoomer non so perché 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 se lo sono rifatti sotto perché emilton è diventato vecchio è diventato una pippa quindi hanno detto ah ok se è stato al cazzo forse c'è speranza per la ferrari è arrivato per appen che è un altro mostro gigantesco e la ferrari ce l'hai ce l'hai che libera comunque come si chiama il pischiello italiana non è italiano è di monaco come cazzo si chiama monegasco leclerc leclerc che comunque è bravo è anche simpatico e quanta è molto bravo in realtà però per stappen è un fenomeno poi vabbè la macchina di verstappen pure è perfetta però comunque ci si sta sperando perché c'è un po più di possibilità ultimamente vinca la ferrari mentre nella moto gp boh c'è bagnaia no quindi tu dici che principalmente perché c'è di nuovo interesse attorno alla ferrari che c'è di nuovo secondo me si è ritornata anche per quel motivo là perché sembra che ci sia possibilità che la ferrari vinca un vinca un mondiale stanno la ferrari fa vomita a me le corse a me le corse in generale mi annoiano da morire corsi di bici moto formula 1 qualsiasi tipo bici sì dai ma le moto della formula la bici è proprio il massimo l'espressione massima della noia per me la formula 1 però non è tanto c'è io quando mi immagino un appassionato di formula 1 mi immagino il signor di 50 anni che la domenica dopo il pranto si mette lì guarda un po la forma guarda la partenza poi si addormenta e poi si deve immaginare questa cosa scusa perché non è il pubblico medio è questo però non è un istante lettuale allora era figo quando c'erano due tizi che si sfronteggiavano per tutte le gare per tutto il per tutto il campionato le le fai le le non le fai testa testa insomma una roba se ne sono state tante poi a certo punto nel rato emilton non c'è più stata storia per nessuno e ha vinto una di mila gran premi con miliardi di punti di vantaggio sul secondo quando c'era a schumacher con Hachinen tutti i Pog conosceranno a Schumacher con Coulthard Schumacher-Coulthard e Villeneuve cioè c'è stato sempre il Villain di Tuno sembrava una saga di qualche cazzo di anime o manga tipo Gogo con Freezer Gogo con Macimbu con quell'altro cioè era fighissimo ma infatti quando uno stradomino è noioso pure la Juve quando ha vinto 9 campionati consecutivi un po' è la Serie A rotto il cazzo che cazzo la vuole seguire cioè però non fatico a immaginarmi uno che si guarda 90 minuti di partita perché c'è più movimento perché c'è sempre azione e anche nel calcio è dilatata cioè per me il basket perché lì c'è effettivamente sempre azione è perché sono 18 metri di campo esatto il calcio è anche più dilatato la dimensione del campo però ecco però per me la Formula 1 il ciclismo ancora di più però la Formula 1 io non concepisco no allora quando c'erano capisco gli appassionati che si divertono divertitevi come vi pare quando c'erano le faide come dicevo era bello perché c'erano i sorpassi costantemente ed erano cioè tu immagina questi a 350 grammi orari fanno un sorpasso in curva sul rettilineo quindi stai lì comunque con l'ansia ti ho detto questi mo' se toccano fanno il botto capito cioè stai lì con l'ansia della paura cioè c'hai paura come se stai a vedere un film cosa fai stai così tutto il tempo sulla punta della sedia aspetta che qualcuno faccia un sorpasso perché altrimenti no quando ai tempi c'erano erano costanti costanti sorpassi diciamo miscele grazie del ride diciamo grazie mille ciao a tutti grazie mille stiamo parlando della dorm ciao unicorn no Simone mi fermo un attimo dai Simone dai e vabbò stiamo a parlare mentre nella MotoGP Simone c'è rotto il cazzo nella MotoGP no che ha detto no no e per niente per Marusi napoletani no no non ha detto niente non lo so non leggo la tascia nella MotoGP è uguale stessa cosa cioè ci stavano i sorpassi poi a un certo punto pure lì c'è stato qualcuno che ha stradominato forse secondo me la MotoGP è un po' più allettante per questa questione qua della Formula 1 forse c'è un po' più azione però ecco io ho questa versione e il Golf? il Golf è un upside hop è un upside hop per flexare i soldi in realtà a nessuno gliene frega un cazzo il Golf però magari è più tecnico non sai per flexare i soldi ci sono più tecnicismi magari nel Golf sì tipo il Golf è come è come boh che cazzo ne so le freccette cioè si limita tutto a quei pochi momenti cioè quei momenti in cui esegui il tiro capito cioè il baseball ragazzi che invece tipo non dovrebbe partire a quattro ore no no il baseball è un gioco di dio il baseball è lo sport che più si avvicina a un gioco da tavolo allora convinciamo la chat a seguire il baseball cosa gli diresti per convincere la chat a guardare il baseball sì vai convincere la chat dato che si imparano le regole si guardano la partita perché esatto e se volete ci sono le partite di come giocavano Elio e Faso che vi fanno capire anche con divertimento come funziona il baseball che non è cosa da poco Elio e Faso erano due dei promotori del baseball in Italia hai sentito Elio dei vestitese a Faso è il bassista degli Elio e loro erano due sono due appassionati di baseball e in Italia avevano anche una squadra se non mi sbaglio sì 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 la Ares Milano esatto perché se qui vuoi il baseball all'epoca questa tronzata come diceva Nico prima che si immagina il tizio che guarda Formula 1 no e si addormenta così invece tipo il baseball da quello che so se quando vai la tipica esperienza da americano che va a vedere una cosa vai a mangiare vai a mangiare a bere fai a fare festa insieme con i tuoi ragazzi e quattro ore per star lì è bellissimo è poetica come cosa negli stadi di baseball ci sono i posti a sedere che comprendono l'all you can eat bellissimo allora proposta questo è un vantaggio del baseball assolutamente allucinante proposta c'è il posto normale e il posto all you can eat dove puoi comprare hot dog birra così ti sfondi con un suino e poi potrei potrei diventare appassionato dal baseball grazie a questo assist qua ma se è un bignone ma come se avessero la sanità pubblica ma tu Max non sei un bignone è credibile gli americani sono ovviamente il paradosso decidi di vedere il format allora proposta uno di tutti quanti iniziamo a giocare al super reno all'otto chi vince ci paga un viaggio negli Stati Uniti e l'evoluzione naturale dove faremo delle IRL ogni volta andiamo a vedere uno sport diverso lo commentiamo in live vai ci sto e poi andiamo a una di quelle in cimmiarci ovviamente con roba tipo il sumo andiamo a vedere una roba di Yokozuna che si tirano dalle slap infatti le fiere dei fucili oppure le fiere dei fucili andiamo a vedere oppure qualche fiera nerd americana dove ci stanno tutti i tizi proprio mitologici americani che giocano a me oppure andiamo prima alla fiera dei fucili poi alla fiera nerd esatto o alle gare di schiaffi russe che pure ci avrebbe qualcosa ce l'ho io vi porto alle lotte fra galli nelle Filippine ma tu sei fissato con questi cazzo di galli no hai fatto il personaggio col gallo quello da gallo quella è un'altra cosa un'altra questione perché quelli sono poli ornamentali esatto questi sono galli da combattimento no allora accendete la tv no qual è l'unica cosa l'unico programma che vi terebbe attaccato di sport dici ti metti lì ti siedi mentre lo fissi e rimani lì a guardarlo quale sarebbe il wrestling nessuno penso nessuno il wrestling zero vabbè io una partita dei calci forse forse il tennis tavolo forse allora il problema sai qual è il tennis tavolo è vero è fascinante a me da fastidio solamente una cosa tutti questi sport io li seguirei principalmente anche il calcio perché devo sperare che facciano qualcosa di incredibile è quello il mio problema è per me i tennis tavolo fanno tante volte cose incredibili io se non vedo tranne quegli scambi da un'ora e venti magie cazzi e mazzi si scambiano di posto eccetera eccetera poi alla fine lo fanno sempre sì però quella roba là mi rompe cioè alla fine mi rompe il cazzo cioè è solamente il wrestling ti capita una legata e merda però là c'è una narrativa c'è la narrazione cioè è come guardare una serie tv mista all'uno sport e se non l'hai vista la narrazione una telenovela mista all'uno sport e infatti se non l'hai vista la narrazione ti verdi il 50% se non il 70% però da se ci pensi questo è anche in tanti altri sport cioè se non conosci tipo i giocatori non conosci le squadre non conosci le tattiche delle squadre non conosci un po' di lore bisogna creare la mitologia per fare c'è la loro anche del cazzo ma pure nel basket io sarei o anche nel basket sarei un botto a tratto soprattutto per la telecronaca che c'è tipo a me mi faceva impazzire la telecronaca del poker e infatti lo guardavo e quella cosa là è una narrativa che fa paura ed è quello che ho sempre detto pure a Nico che è quello che manca nel gioco da tavolo quel tipo di commento là perché tu se ti guardi uno che gioca da tavolo ti rompi il cazzo se ci fosse qualcuno che alimenta infoca le puttane a dire questo sta a fare espressione veramente eh lo so è l'infoca puttane no non è meglio il poker il poker quando lo vedi col tizio con l'occhiali dei 15 anni così è vero col cappuccio cioè quella roba là se c'è un commentator incredibile un color commentator incredibile ti arrapa se non c'è sono carte che si girano su un cazzo di tavolo e quello è il concetto del cinema nigeriano o quello ugandese hanno il vocalista accanto al tipo allo schermo che ti descrive le robe e fa le battute è come la reaction praticamente vai a vedere Marvel e c'hai accanto Diego che ti fa la reaction tipo al team Mario bello ma come la telecom un gioco da tavolo uguale uguale al poker ovvero vedo le mani del giocatore dico ah Nico ha finalmente uscito la carta che gli permette di prendere quella risorsa dal turno come si comporteranno Diego e Max al confronto è ovvio che chi conosce deve conoscere il gioco deve avere le visuali perché ti fa capire subito cosa stai guardando che al 90% dei casi la gente apre guarda come gli scacchi non sono le regole non so niente come gli scacchi oggi su Twitch gli scacchi sono fortissimi fanno numeri incredibili perché c'è quello anche la è ovvio che anche chi conosce lo scacco non ha bisogno del color commentator attenzione però è ovvio che se tu c'è un commentatore che ti fa vedere le mosse e ti dice ah questa è la mossa di Khrushchev dell'84 oppure ti dice lui potrebbe rispondere così 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 e poi aspettano che il giocatore risponda per vedere ah ok interessante ha scelto questa cosa qua potrebbe cioè non solo nei giochi di blef è zato in qualsiasi gioco soprattutto i gestionali dove tu stai zitto perché non non vuoi parlare non puoi fare taunting nei confronti dell'altro io posso dire ah Diego vieni vieni qua mentre sto giocando a un gestionale la ti servirebbe nei giochi di blef c'è già narrativa secondo me ci devono stare anche soldi dietro beh quello si cioè devi sapere che il teleconista sta commentando con grande fervore una cosa che dove ci si stanno giocando dei soldi questo sta per vincere milioni di dollari formula 1 sono tutti vabbè beh ma se ci metti i grossi tornei di scacchi per dire perché certo chi vince i mondiali di scacchi vince tanti soldi è un trofeo però non è come il poker magari sono proprio dollari eh ma come i tornei di lol penso che là i soldi li vincano i team e là i cristiani stanno muti e se non ci sono i commentatori si ti guardi la giocata però perché twitch attrae perché chi gioca tecnicamente ti intrattiene e là ti intrattiene non il team che sta giocando un torneo con i denari ma il commentatore infervorato qual è per voi lo sport perfetto che ogni 5 secondi c'è un'emozione e dici oddio non ti smetti mai di avere emozioni per me l'NBA eh sì sto d'accordo e ti dico forse il football americano se avessi più cognizione del gioco no dai il football americano stanno lì che fanno le tattiche in 5 secondi si fermano eh però sai che è come nel basket nel basket pure stare sempre a fare tattiche non lo percepisci ogni 5 secondi è un salto quello fa la Leop boh poi con l'altro è molto spettacolare devo dire forse gli sport di combattimento per me box MMA così per quanto non li seguo assolutamente non sono mai stato particolarmente interessato anche perché poi c'ha là c'hanno di solito un po' una mitologia poco da gentleman che non mi fa un po' arrogantoni un po' un po' spugnizoni che mi tiene lontano a me paradossalmente come cosa c'è proprio quella adiacenza alla delinquenza un po' non so se mi spiego ti dà proprio idea non lo so rassegna stampa che fanno oppure conferenza stampa dove la gente si insulta in faccia ti dici non so cioè ti dici se questo non avesse fatto questo sport molto probabilmente era nella malavita spurtellarsi da qualche parte nei veicoli sostanzialmente però vedere poi invece dal punto di vista visivo proprio di sport quello non lo so è adrenalinico perché vedi proprio vedi proprio combattimento anche il wrestling ha il wrestling ha una cosa simile però più narrativo più mitologico più più spettacolarizzato più esatto cinematica come cosa il fatto che hai scritto comunque ti smorza quella cosa tu devi solo la devi sapere che se ci sono due contender effettivamente validi potrai vedere degli spot incredibili tipo adesso è arrivato Logan Paul che tutti conoscete sì sì cringe purtroppo sì però l'hanno portato nel wrestling perché ovviamente fa numeri e fa spettacoli come l'hanno portato nel wrestling che si sta lottando e ti dico che però è un ottimo worker ma stai scherzo fa degli spot adesso contro Ricochet che fa dei voli d'angelo che fanno paura quindi su Logan Paul non ti interessa il fatto che è uno stronzo anche se è un potentissimo il come dice Giosa ma il fatto che tecnicamente si sta mettendo in gioco tantissimo però l'epica che c'è dietro Logan Paul non c'è cioè capito l'epica dietro il dream team di Barcellona 92 dietro tutti i Chicago Bulls dei sei mondiali dietro Allen Iverson dietro come cazzo si chiama Space Jam 2 aiutatemi Lebron Lebron è ovvio che quell'epica là non c'è è un'altra epica posso leggere un messaggio devi puzzi di culo e le faccia da cazzo bravo scatto della società come fa a sapere che puzzo di culo adesso è bello l'odorama nel Twitch pazzesco penso che lo sospetti visto che stai live dalle tre porca troia oppure puzzi talmente tanto che c'hai come le fumetti è visibile no ma c'ho le macchine non so se avete visto le scie di l'umaga ah di sburro c'ho le scie di merda di l'umaga no non so questa cosa di Logan Paul mi ha veramente messo paura perché questo qui ha provato in tutti i modi a trovare una sua dimensione da qualche parte e quindi messa in dichiaria d'abbi potrebbe averla trovata allora no perché è ovvio che l'interesse dietro Logan Paul è dietro il pubblico di Logan Paul ok è palesemente mirata perché se tu hai Prime come tu a proposito di Prime punto esclamativo Prime in tutte le chat perché non si ritrova automaticamente ma se tu hai una bevanda come Prime che sta in tutti i supermercati e l'associ a Logan Paul è ovvio che a Logan Paul associ anche poi il wrestling così quindi è ovvio che è una cosa ammirata non c'è una dimensione a di o cioè non c'è la cosa per cui dici il fratello è un pugile bravo e allora ci portiamo dentro lui che tante volte è bravo che poi sia bravo va bene ok eh sì arrestamento c'è anche però come accennava qualcuno nella tua chat Bove il fatto che sia cioè le premesse per essere un heel cioè un villain no 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 lui è entrato come heel già il fatto che è un influencer e quindi al 90% delle persone starà sul cazzo tra parte del suo del suo il solo per dire lo voglio vedere minato da qualcun altro tipo è successo quello cioè dove sei wrestler e c'è entrato lui in sei sono invece di pistarsi tra di loro sono andati sei contro uno instant arresto le mani è entrata col Pikachu illustrator da sei milioni proprio per aumentare però però vedi funziona è quello è un po' la figura di Vince McMahon quelle figure che devono essere odiati da tutti e lui c'ha in più che non è un personaggio solo dentro il mondo del wrestling ma anche da fuori ed è stronzo anche fuori è odiato anche fuori quindi è facile mi ricordo a tal riguardo a proposito del sumo ci fu adesso non mi ricordo il nome da battaglia ah che bono forse proprio lui non mi ricordo però tipo ci fu uno dei momenti di revival più potenti del sumo degli ultimi anni dove di fatto il campione o comunque uno dei più chiacchierati era proprio considerato il bad boy del sumo cioè uno bravissimo però tipo provocatorio che per i per i per i standard del sumo però provocatorio vuol dire che tipo alla fine del match fai tipo così cioè basta cioè non è che forse è presente di chi stiamo parlando però non mi ricordo ovviamente no no asashoryu non era e mi sa che forse era asashoryu era asashoryu ed è considerato il ragazzaccio del sumo solo perché lui tipo magari tipo a fine match dopo aver vinto fissava male l'altro che è una cosa che era proprio tutto hanno parlato per anni in giappone questa cosa quasi un rituale non era nemmeno tipo quasi sport però questa cosa qua ha fatto chiacchierare tantissimo il sumo e l'ha riportato alla ribalta in un periodo che invece era in calissimo proprio perché invece hanno preso quello che era l'equivalente del villain era pure bravo a me è una stronzata che è buono mo ci vuole ritornato anche nel wrestling proprio per portare prestigio al sumo e così via ah ok vabbè contro big show hanno fatto un match ancora big show big show si è ritirato sta tranquillo adesso Paul Wright sta in IW ma fa il manager non lotta più comunque sto notando che sempre di più si sta spettacolarizzando qualsiasi sport cioè piacciono proprio come diceva Max questi personaggi e secondo me alcuni in tanti sport è l'approccio americano neanche nel calcio vabbè in America è partito da eh l'approccio americano è tenere la pallacanestro nel baseball nel ci sono gli eroi come si chiama quello che ha fatto i film anche tutto tutto i capelli colorati Rodman lui cioè è stato proprio l'emblema di questa cosa qua cioè proprio il personaggio classico super controverso si però capisci pure bene ci stavano altri cristiani cioè era tutta la squadra di Detroit che erano dei figli di puttana si 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 i Detroit Pistons che andavano a massacrare alla gente però quella era all'interno della partita cioè io parlo proprio di personaggi che ti li ricordi io non me li ricordo i personaggi mi ricordo Rodman certo certo te lo ricordi cazzo Rodman mi ricordo vabbè vabbè personaggio assurdo Magic Johnson Magic Johnson una tradizione che va avanti da Muhammad Ali cioè pensate ai Rumble in the Jungle che cazzo di nei giochi cioè negli sport ma state già ruolando i vecchi in ospizio che rimpiaggono i tempi passati spicchi e sei solo te è facile in quelli di squadra è già più complicato però ecco diciamo che per lo meno per la percezione cioè io non seguo nessuno sport attivamente però per dire nel calcio nonostante siano tanti giocatori gli eroi fra virgolette stiamo parlando a livello mondiale sono pochi li conti sulle dita di una mano no? sì al massimo gli schumacher per dire cioè quelli che anche chi non segue quello sport sanno chi sono nella palacanese sono tantissimi di più eppure una squadra è composta da 5 giocatori meno della metà del calcio però stiamo parlando degli Stati Uniti e basta però anche lì si creano rivalità ma sì certo è l'uno contro uno tu alla fine vedi un match ma certo sì però dico però dico che gli americani fanno molta più leva su questo su questo fenomeno sì 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 c'è il fatto di creare degli idoli degli eroi appunto è tutto diventa tutto un po' un film anche nel cinema alla fine è sempre stato così per loro sì minchia te lo ricordi la sfida dove era la prima volta che si vedono Al Pacino e Robert De Niro nello stesso film tre secondi stanno assieme poi tutti i resti hanno girato in maniera contemporanea hit la sfida io comunque tra gli sport che si accendessi sport vabbè tra le cose che mi terrebbero attaccate di qui non me ne frega un cazzo però sono talmente atipiche che non ho mai visto che non dico ma perché c'è sta sta cosa il bowling me lo guardo non so perché io l'ho fatto con le freccette le freccette delle robe mitologiche anche delle cronache assurde sì 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 mi ricordo proprio nelle freccette c'era uno c'era un canadese no era più old school era mega panzone che tipo è diventato leggendario perché si faceva quattro litri di birra ogni volta prima di andare c'è proprio c'è proprio l'emblema o era canadese o era americano tra le due ed era proprio tipo bravissimo però tipo un bevitore seriale mostruoso il biliardo pure è ipnotico è vero il biliardo pure c'ha degli io ho sempre pensato il nascar ma sono centomila giri in tondo circuito circolare cioè veramente te lo va dicono ma lì allo stadio mi hai detto voi perché vi magna della veggia o merda super top te lo guardi per i chioppi per la gente che si schianta con la macchina e perché voi rischiate di morire i chioppi i micchi come li chiami non lo so non si può dire come lo chiamano a Roma no mi hai fatto ricordare che a scuola alle medie la professoressa mi blastò davanti a tutti perché ho scritto schioppare per dire crepare no per dire esplodere tipo ah si schioppare ok è schioppata la bomba e mi fa schioppa che per poi è schioppare schioppa esplode non esiste in italiano schioppare davanti a tutti ma non ha massacrato le botte vabbè come al solito succedeva a scuola però vabbè è un altro discorso come succedeva tutti i giorni a scuola sì sì però il bowling è uno sport sì è uno sport il bowling regale è me incredibile cioè poi fanno tutte quelle robe assurde mille strike più che altro perché secondo me si accosta a quegli sport che chiunque cioè sport chiunque potrebbe fare uno va là paga è come il ping pong è come il ping pong è come il ping pong forse più accessibili a noi dove non devi fare un grande dispendio il ping pong comunque deve avere una condizione atletica di rilievo sì vero cioè il wrestling scusa il bowling come il wrestling se sei grosso e non ti muovi un cazzo va bene eccellere sì sì perché sei massiccio comunque sì grosso proprio quello intendevo però non penso che era quella la cosa no però il bowling c'ha il fascino però pure là io ci vado da quando avrò 12 anni al bowling io non capisco come cazzo si fanno i tiri cioè io sono stato anche in grado di mandare la palla cinque volte in giro è quello il bello che te lo guardi perché dici quello che non riesco a fare io lo fanno loro so dei fenomeni però io mi sono mi sono sempre chiesto ora non conosco le regole da torneo del bowling ma è davvero così difficile fare tutti i strike cioè per un giocatore professionista perché se io guardo un imbecille qualunque al bowling a luci cinema a Firenze due o tre strike clicava su quanti sono 11 tiri quanti sono no i tiri dipendono da quanti strike fai cioè ok però dico su perché se tu fai una partita perfetta sono 15 15 tiri dico è difficile fare 15 strike di fila per un professionista intendo cioè per uno che ha dedicato la sua vita a quello sport ho appena mandato il pepe ai clienti neozelandesi ecco ho mandato il pepe con le braccia tutte secchiette e fa così bene faccio la pupazzo Diego persa la credibilità per sempre da 4.85 a 4.32 è un lampo perché mi ha chiesto mi chiedono ma si può bere l'acqua del rubinetto beh sì però non è che abbia un sapore incredibile ok buona stavirsi ah ah io vogliamo sapere vogliamo sapere la recensione però una volta che è arrivata ci lasci in sospeso quante stelle ti smolano la fine questa è la cosa io ho mandato l'hypers il commento alla alla recensione è poggers no se dici poggers è poggers cioè e vabbè alla fine adesso siamo dilungati a chiacchierare perché sta cosa qua a me mi affascina per esempio come diceva Nico non so anche voi cioè io guardo le cose di solito che magari gioco a calcio faccio il coiune con gli amici miei sono una pippa ma affascina guarda i professionisti che sono dei fenomeni no stessa cosa quando vado su twitch guardo io gioco prova a giocare a code e ho fatto 25 kill poi però voglio vedere tipo un power che se ne fa 100 chiaro cioè mi piace guardare dei mostri che fanno tipo anche sul lol no io non ci ho giocato due volte però quelle due volte ho detto ok ho capito le meccaniche non so una pippa e sono andato a vedere faker che è un cyborg e penso Max pure si guarderà quelli di dota 2 che sono dei mostri non avendoci giocato è rimasto poco ormai però me li guardo ancora con piacere quindi andiamo a guardare quello che è più è vicino a quello che noi vorremmo fare ma è anche perché diventa facile per te leggere quella cosa cioè nel senso se io non so niente di quella cosa mi diventa difficile anche capirla invece quando hai quel poco che ok capisco cosa sta succedendo ma non sono bravo a farlo allora a quel punto lo apprezzi cioè apprezzi anche l'abilità che porca miseria ma che cazzo c'è la guerra via bono e che cazzo e cazzo esplorso è il caldo è il caldo è il caldo calmo calmo che non stiamo a giocare va bene diceva no ecco dicevo perché se ti guardi un pro di lol ti guardi un faker e non hai mai giocato a lol non apprezzi neanche e dici ok non capisci cosa stanno facendo non apprezzi neanche l'abilità una domanda oltre ad apprezzare l'abilità lo fate anche con spirito costruttivo a dire ah quello gioca così voglio giocare per imparare no 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 l'ho fatto per le speed di Minecraft ai tempi adesso assolutamente a un certo punto secondo me bisogna mettersi il cuore in pace che succhierai per sempre tipo in un determinato gioco è chiaro ma pure perché tutti quanti abbiamo superato la soglia dei 30 che qualsiasi è una leggenda sta cosa no no è una leggenda si è alzata no rega si è alzata sono i 20 si dai si è alzata sta cosa rega in dubbio si 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 è alzata si è alzata si è alzata si sarà alzata però ancora giovane nel senso 40 40 per gli e-sport però per gli sport veri cazzo si è alzata cosa volessi dire gli sport veri no no con gli e-sport si e-sport sono sport e-sina game esatto con hashtag ad se volete siamo qui disponibili comunque ci suggeriscono grazie Garurumon per averlo detto una partita bowling su e-sport resort well non su su quello sullo switch no su e-sport vaffanculo dobbiamo stare al vivo per forza se crederci pure che i trenti no no io non ci credo più da quando ho fatto trent'anni non ti preoccupare anzi dai vendiamoci questa illusione si 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 io se mi mangio un poco di farro in più muoio si è morto si è ormai no l'ha fatto per l'ha fatto per l'ha fatto trent'anni l'ha fatto boom nasce così la vita mia dopo i trenta si va al circolo brocciofilo e che comunque è uno sport importante è uno sport quello eh che ho messo che gli hai messo ah è saltata la corrente è una imot dai è uno sticherino è saltata la corrente nel quartiere quindi max per un poco ci lascia davvero si ci ha scritto adesso sulla chat sta succedendo ogni cazzo di giorno ok allora come la connessione nel bnb vedi succedemi che è colpa mia cioè può succedere che è il caldo no 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 attenzione quello sulla rete non c'è un problema del resto se ora giocare a greenhawks c'è un motivo esatto è quello il motivo perché abbiamo superato i trenta ma come vedi abbiamo superato talmente tanto i trenta abbiamo fatto il giro e stasera manco stiamo a giocare ecco allora ditemi un gioco che si può fare con il caldo estremo e non c'hai caldo grazie ma è sapere un esport o di videogioco qualsiasi cosa una cosa che puoi fare con il caldo estremo senza divirtendoti la palla nuoto anche se io non so nuotare quindi non mi divertirei perché sarei è vero il nuoto il biliardo il biliardo è un po' climatizzato tendenzialmente sì è morto max gli esposa la connessione vabbè senza inquina al mondo senza inquina al mondo puoi giocare a scacchi all'aperto in un posto all'ombra e windsurf all'ombra con 40 gradi all'ombra vabbè ho tutti i sport in spiaggia appunto il mare windsurf il no aspetta spiaggia il cazzo ho giocato a volleyball partite di torneo con il caldo cioè col cazzo proprio comunque vi confermo che ci sarà un bello break estivo cioè no un break un break un break fresco ah bene quando sentiamo verosimilmente dal 26 luglio se se spera ah quindi quando ho finito di pagare le tasse intorno al 26 luglio ci sarà la prossima settimana quindi ci sarà un break dal caldo terribile sì ma per tornare a bomba figurate quindi vuol dire che oggi è martedì quindi fino alla per una settimana intera sarei sotto i 40 gradi ma giusto per ma poi ritorniamo a bomba col caldo tossico ovviamente non è impossibile già non si sa se questa cosa viene confermata figurate ok comunque io il fresco ve lo dico me lo vado a fare dall'11 al 14 agosto ad Aosta eh io sono in Sicilia eh lo so eh lo so però ti vedi a fare Lipzig eh fra Sicilia Sicilia fa che? ah me l'avevi detto quella roba lì è vero e vero me l'avevi detto al festival della musica classica prog esatto classica e prog sono due costamenti particolari è prog perché Pog penso e tu ti vedi a fare ad Aosta? c'è il giocaosta c'è un evento di gioco è una fiera anzi non è una fiera è una convention ma potrete leggerlo meglio sul mio canale Instagram questo venerdì che uscirà la guida a come consigliare le cazze ed è una convention dedicata è come Lucca solo gioco da tavolo ma c'è davvero? e beh che si mette le cazzate? giocaosta si chiama che cazzo a giocare? vai approfittiamo 2200 giochi in scatola giocare dappertutto locus e scape room giochi giganti e fornito e tornito che sono i giochi giganti? praticamente sono le versioni giganti dei giochi in scatola cioè hanno fatto le versioni grandi ma per gli anziani tipo i numeri di tele no per i bambini per i bambini principalmente c'è tipo bicchierini bicchierini sprint sprint si gioca principalmente in giro si è perso il mio cazzo che cazzo dite? a gaming ah ci stanno anche i cosi da gaming allora 11 agosto apertura della quindicesima edizione ok 11 agosto sempre la stessa 2200 giochi gratis per tutti torneo di carcassone torneo di agricola sessioni guidate dei giochi di ruolo si giochi investigativi sessioni guidate intrigo internazionale formula D e formula D che cazzo è? sono due giochi da tavolo sulla formula 1 cerco giocatori per chi cerca un compagno di gioco giocare dappertutto spazio gioconi mage knight gioco di ruolo sessioni guidate giochi investigativi l'enigma di santorso è un è un caso che hanno creato dentro la cattedrale di santorso quindi chi gioca ha il biglietto per visitare la cattedrale ma allo stesso tempo c'è un investigazione da fare ma stessa ma che figata ah sei tu che ricondiviso ok alien adesso lo so poi lo ricondivido pure io dungeons and dragon multi-tao magic draft di commander commander master l'enigma di santorso in sala di yugioh badge e churum perché comunque sono giochi da tavolo volenti o nolenti anche se sono purtroppo anche se ci sono i soldi dietro e quelli so che figata che figata però sta roba foto si si è la cosa bella sai qual è è l'unica cosa veramente incredibile di questo evento è che è tutto gratuito non c'è un biglietto da pagare tu puoi fare il cazzo che ti guardi è andata a Osta però non c'è il biglietto è tutto sparmato sulla città i cristiani hanno hanno allora in questo momento ad Aosta ci stanno 34 gradi beh super giù come qua quindi non è che stanno parecchio meglio no però però si abbasseranno a 12 gradi eh no è figo però cazzo dai poi in 100 minuti andrei in montagna a mettere mila metri che te frica qual è vicino alla città la montagna più vicina l'anno scorso ci siamo fatti gli altri 4 giorni mi è venuto anche Flo ci siamo fatti gli altri 4 giorni a fare le passeggiate in montagna vai giù come ho amato la montagna penso mai più ciao alien a poi penso mai più cioè io il mare mi fa schifo non sono in grado di nuotare la sabbia tra i piedi mi fa cacare mi rompe il cazzo mi devo bere mille sei napoletano Avellino in montagna sono l'unica la persona più lontana dal mare nella botta al sicuro spingi come un teluro grazie Froppy per il ride ah ride a bove eh Froppy si è offeso si è offeso eh grazie Eagleman cazzo di roba no comunque comunque è figa sta cosa della di queste fiere qua io in realtà non ce ne so mai cioè a parte le fiere belle classiche però queste fiere così dei paesi piccoline più piccoline più in sordina zero non ti abbiamo sopportato ti amiamo Froppy comunque sai che è è che non sono le le classiche fiere del fumetto a vaffanculo sul niente vero dove dove non c'è niente dove non c'è niente e l'unica cosa è sempre senza offesa per nessuno però ti faccio capire il mood ci sta sempre Pietro Ubaldi che fa il firmacopi ci sta sempre Gianluca Iacono che fa il firmacopio che fa il firmacopio si hai capito le gare di cosplayer dove comunque i poveri Cristi si addannano ma ci stanno tre persone a guardarle poi i banchettini con le magliette nerd i action figure che sono le stesse che vedi da per tutto se ti va bene con offesa pure romics nerd lo possiamo dire quella è una vera importante io prendo le distanze perché io no io l'ho sempre detto la mia critica va soltanto alla struttura che non mi piace è troppo opprimente è brutto è proprio brutto a parte essere brutto punta solamente sul fatto che devono fare i biglietti non c'è più un cazzo per cui tu vai a vedere il romics cioè ma io se mi devo prendere le stesse maglie di pampling da un altro cristiano che se le stampa senza pagare diritti e cazzi e le so più brutte fanno cagare e devo prendere sempre il gaggettino vabbè infine anche data a me però ci sta sì no io col romics sono incazzato ma così come le altre fiere del fumetto perché per me cioè la dimensione giusta dovrebbe essere quella del Rimini Comics che effettivamente era un evento per cui prima si facevano i fumetti ad hoc che dovevano uscire per il come si chiama per il Rimini Comics se stanno 600 eventi del fumetto tu non hai più il tempo per fare uscite per fare gli eventi per fare i cazzi ma come si fa dai data no mi fa ridere Zalacenco che certo è che ha ha messo il copypasta senti lo posso ritrovare però qual è il copypasta è inutile che mi sbattete che data io ci ho fatti i soldi costa a me mi ero ripromesso di non farlo ma per la prima volta in vita mia si fa per dire in 7 anni di cosplay devo fare polemica sul soldato della gara di Torino lo faccio pubblicamente sul mio profilo perché non saprei nemmeno in quale gruppo pagina andarlo a scrivere e perché non mi nascondo c'era un dito quindi se qualcuno dell'organizzazione della fiera di Torino o della giuria vuole rispondermi lo faccia pure qui inizio premettendo che si rosico è pure un casino così lo dico subito io e non ve ne uscite con cavolate del genere e sapete perché rosico e miro del culo miro del culo perché per arrivare alla fiera di Torino da Roma ho fatto 13 ore di viaggio in 3 giorni ma come ma che allora non so 13 ore di viaggio scusa sono 3 giorni è andato in nave è andato in nave da Roma ha contato l'andata il ritorno capito si ma se so in 3 giorni so 3 giorni non 13 ore so quindi 3 giorni di viaggio logicamente so 3 giorni vabbè ho speso soldi eppure perso 2 giorni di lavoro ed io lavoro ad ore non ho ferie ah ok allora ho capito perché ti ho raccontato prima le ore e poi i giorni non ho ferie né malattie rosico perché sono stato sicuramente penalizzato per essere stato così sfigato che mi si è rotta l'ascia durante l'esibizione sul palco rosico perché dietro alla realizzazione del personaggio c'era tanto intanto il lavoro di un'altra persona che meritava di essere valorizzata e soprattutto c'era un personaggio c'era un sfigato più profondo madonna ed era importante poi vedermi sfuggire per ben 3 premi dei quali uno dato a doppio che poteva soddisfare più amici e da altri due veramente assegnati in maniera ridicola tra il make up e la somiglianza fisica non mi esprimo nemmeno perché mi incazzo come una bestia era una merda in confronto a me ma mi avete visto la vedete sta cazzo di foto trovatevi un difetto oh no è un grande quella l'ha letto grande la foto però non c'è l'hanno tradotto in tutte le lingue poi sotto vabbè mamma mia ecco utente medio board game classic tra le altre cose questo sì un gran cosa veramente class dici no allora possiamo vedere non prendo i copipasta dei giochi da tavolo sulle maletraduzioni ah beh certo ci sono anche quelli sui creatori di giochi eh eh cioè c'è roba c'è roba e lì c'è tanta roba pure là minchia vai giù zombo 08 ciao nico ti volevo chiedere conosci i giochi da tavolo basati solo sui dadi basati? no solo sui dadi certo ci sono tantissimi milioni di milioni direi due così al volo mansion clever il primo che mi viene in mente strada di rinchiostro grand austria è un poco più complesso sì basato sui dadi sumo slam capolavoro infinito vabbè non sono dati classici però basato solamente sui dadi eh chi dice ehm perudo perudo sì perudo solo sui dadi bang il gioco di dadi bang il gioco di dadi che ha una bomba incredibile luciador gioco incredibile tutti i giochi tutti i muoviti i game questi oh che devo fare sumo slam luciador scusa ha detto basato effetti io ho dato vicino perché guardo anche la mia hai detto grinchador luciador 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 vabbè ci sono tutti i roll and write dungeon dice sì dungeon dice no paper dungeon ponte scamativo furgone non funziona più il link non funziona più il link no ponte scamativo bari eh ponte scamativo bari pure ci sta comunque quello sì sì che più che più appunto se vuoi giochi un po' no è cresciata la linea se volete altre cose importanti penso bastino penso bastino questi sumo slam matrimonio evento edition lo faremo eagle man mettiamo la faccetta mia e la faccetta di yaki ho avuto un po' paura non so perché su questa cosa la faccetta ah sì chiediglio anzi glielo chiedo io però ammetto che è tua cosa chiede nico e lo chiedo anche a data perché chi sta chiedendo cosa 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 ttv grande ha funzionato sia di data diventato nuovo mio utente così giusto che conoscete il gioco il dadariello non è un meme no non conosco il dadariello il piccolo dado immagino sia no non è proprio il piccolo dado traduzione anche se l'assonanza potrebbe sembrare quella è un gioco di carte che si faceva in carcere dadariello dadariello eccolo ah quando dovevi indovinare il tizio dalla foto cioè tu c'hai tutte immagini di tutta la gente ma te ne manca alcune tu devi indovinare chi c'ha le carte dell'avversario no è un è un gioco da come si chiama è un gioco di di dama di scala sì sì di te carte ho detto che fa prima data è una pista di macchinine che coi dati ti muovi scusa mi coso non volevo rompere il cazzo ah perché te dici hai guardato il primo risultato di google immagini e dadariello è una versione tarocca di indovina chi eh sì e infatti c'è scritto pure sopra adivina quem foi che mi sembra proprio che indovina chi c'è uno tra l'altro tu mette un gioco che si faceva in carcere e c'è uno dietro gli sbagli ah perché c'è uno dietro gli sbagli c'è un prezzo che erano brandizzati i giochi per il carcere perché siamo giochi gli stessi che ci chiamano i fuori dal carcere esatto però no non lo si conosce ma in il carcere li distribuiscono i giochi da tavolo? no però potrebbe essere un ottimo modo per riprimetterli in società effettivamente figo cazzo sai che bella iniziativa vai lì porti i giochi da tavolo fai queste robe qua ti reggerebbe farlo? certo pure perché secondo me nascerebbero dei bellissimi design perché cazzi che trovi il matto che si piglia bene e incominci a scrivere i giochi da tavolo e col tempo che hanno e con i playtester che hanno a disposizione io so che tipo negli Stati Uniti avevano fatto un programma di per i carcerati su gioco di ruolo perché immagini hai tantissimo tempo per scrivere le avventure e farti tutte queste cose quindi devi indovina devi indovina chi è evaso no giocavano a D&D cioè però ho capito evadere cioè è anche bello il concetto che te evadi mentalmente dalla prigione in cui sei sei non sei più rinchiuso nella prigione ma è bellissimo però come idea come idea è incredibile ce sta a costo davvero? bovea quando torneo live di schiaffo del soldato con Diego sotto ogni turno infinito ok non credo si possa fare dipende dai giochi in strigo a palazzo farebbe partire in realtà alcuni giochi da tavolo possono esserci ma sono portati da volontari o preti suore rompono tanto il cazzo per i dadi che possono essere usati per i giochi d'azzardo vanno tanto gli scacchi però film incredibile di come si chiama di Nomo Ciro da Paradiso di Giuseppe Tornatore degli anni 80 un film crudo che fa paura ve lo consiglio cioè bello bello spinto però questo lascia intendere che comunque poi il mio trascorso viene da là e quindi esatto dal cinema no dal cinema esatto ah pensavo dalla prigione ok il camorrista Eagleman si chiama allora ragazzi io mi fermerei qua come vuoi eh max è crashato non abbiamo fatto l'ultima giornata di Greenox vabbè ci sta alla fine se ci prende bene a parlare perché dobbiamo bloccare no no infatti tanto quello sta qua quello freme dobbiamo fare un piccolo recap perché io ovviamente sono passati tre settimane assolutamente oggi è la terza settimana ma non tiro qua è che io ho sempre i miei appunti perché io a differenza vostra sono un nerd no io sono proprio un nerd io io se non scrivo sembri la mia psicologa hai visto uguale che si segna tutto è una nerd la tua psicologa? no no è un suo mestiere sì sì assolutamente sì infatti va bene gioco di nuovo così lungo di diventare vecchi come i personaggi ruolati eh il metagame o il paragame in questo caso sarebbe mi sa che sarebbe più para lo scopriremo martedì la prossima il prossimo martedì ragazzi va bene allora io ringrazio ringrazio dimmi una cosa subito questa è una domanda semplice vogliamo fare che martedì non il 25 ma il 2 agosto è l'ultima o il 25 lo vogliamo mettere per pausa pauser che vuol dire per pausa voi poi da quando andate in ferie per cui effettivamente l'appuntamento non ci sarà più è la settimana dopo il 2 ok quindi il 2 possiamo dichiarare che effettivamente è l'ultima di questa stagione il primo il primo martedì è il primo ah il primo ok scusami il primo lo dichiariamo come fine di questa stagione e poi se ne parla sì perché sì la settimana dopo il mio compleanno e quindi ci troviamo va bene ok grazie è stato bellissimo grazie grazie mille ciao ciao ok ciao